La Salernitana ha ufficializzato l'acquisto di Liliane Yeo, terzino sinistro che può essere impiegato a centrocampo. Yeo si è detto orgoglioso e onorato di essere approdato alla Salernitana, sottolineando la sua flessibilità tattica come uno dei suoi principali punti di forza. L'inserimento di Yeo nella squadra aggiungerebbe un'opzione versatile sia per la difesa che per il centrocampo, un dettaglio non trascurabile per il tecnico che cercherà di sfruttare al meglio le sue capacità in campo. Un altro colpo significativo messo a segno alla dirigenza Granata è l'arrivo di Franco Tonghia, Il giovane centrocampista che ha raggiunto il ritiro della squadra rappresenta il terzo innesto sotto la gestione Gianluca Petrachi. Tonghi è noto per la sua duttilità tattica e rapidità, caratteristiche che lo hanno portato all'attenzione il commissario tecnico Roberto Mancini, che all'epoca lo aveva convocato due volte in nazionale. Tra le nuove acquisizioni della Salernitana c'è anche Davide Gentile, che si è presentato ai tifosi con grande entusiasmo. Gentile ha dichiarato che la tifoseria della Salernitana merita il massimo e ha descritto se stesso come un giocatore veloce e rapido. Le sue qualità fisiche e il suo impegno sono caratteristiche e potrebbero rivelarsi fondamentali per il successo della squadra nella prossima stagione. La Salernitana ovviamente monitora il mercato e cerca anche delle soluzioni a portare giovani interessanti in Granata. Si osservano che Rubini è pagano della Roma e entrambi i giocatori hanno attirato l'interesse della società Granata, che vede il loro potenziale rinforzo per aumentare la competitività della squadra. Inoltre, con l'eventuale partenza del portiere Luigi Sepe, si fa strada l'idea di ingaggiare Alberto Paleari, portiere del Benevento, una mossa che garantirebbe solidità e affidabilità tra i pali.